Professor Arazio Licciardello Sì, perché sono qui, perché sono stato invitato a trattare peraltro un tema che mi pare importante in generale in particolare rispetto al tipo di eventi che sono stati qui organizzati io da psicologo sociale ritengo importante che il ruolo nella mia interoperazione perlomeno sia contemporaneamente di ricerca, di approfondimento ma sia anche di condivisione rispetto al sociale, per quanto possibile anche di stimolo, di interlocuzione sono occasioni nelle quali si dà un contributo ma si imparano delle cose questa è stata una bellissima esperienza nella quale io ho imparato anche delle cose e ho potuto constatare come ci sia una sinergia tra le istituzioni pubbliche, in questo caso il comune e le associazioni nel portare avanti una serie di iniziative che sono funzionali allo sviluppo e alla sostanzialmente alla costruzione di una società che sia migliore per i singoli e per la collettività